buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo video tutorial per le assegnazioni provvisorie per una sola provincia per esempio questa è un'assegnazione provvisoria interprovinciale scelta la provincia di roma andiamo a vedere come compilare la sezione d delle precedenze le precedenze sono 15 e in particolar modo quelle più usate sono per esempio la precedenza 3 dove il docente se ha un'invalidità superiore ai due terzi e l'articolo 21 della legge 104 può esprimere con il termine sì con l'opzione sì di avere questa precedenza oppure possiamo anche parlare della precedenza 4 cioè quella riferita all'articolo 8,1 punto terzo della lettera e del contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità annuale qui si parla di gravi patologie e bisogno di cure continuative anche se non si è in possesso della legge 104 attraverso questo tasto si sceglie il comune di riferimento dove c'è la struttura sanitaria che ha in cura il paziente su quello c'è quel comune esiste diciamo una priorità una precedenza all'assegnazione proprio nel comune dove c'è il bisogno di cure continuative poi abbiamo per esempio la quest'altra precedenza cioè quella riferita la lettera f dell'articolo 8,1 punto terzo che è riferita al caso che il docente abbia una grave patologia e dunque possegga la legge 104 articolo 33,6 dunque patologia su se stesso deve indicare sì in questa opzione nel caso in cui avesse questa situazione di gravità questa altra precedenza quella diciamo riferita al punto 6 è una precedenza per avere il riferimento di appunto precedenza articolo 33,5,7 per assistere il figlio per l'assistenza al figlio anche qui si mette sì nel caso in cui invece si debba assistere il genito il coniuge si fa il punto 7 il genitore come referente unico il punto 8 9 e 10 sono riferiti ai 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 lavoratori alle lavoratrici madri o lavoratori padri per figli di età inferiore a 6 anni questa precedenza vale sia a carattere di assegnazione provvisoria interprovinciale che provinciale mentre chi ha figli di età compresa tra 6 e 12 anni dunque avente un figlio inferiore ai 12 anni ma di età superiore a 6 questa vale solo per le assegnazioni interprovinciali e si deve mettere sì chiaramente poi abbiamo anche altro tipo di precedenze però in generale le precedenze più importanti sono quelle che vi abbiamo descritto speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori seguiteci ancora nei nostri canali social nel nostro sito www.tecnica scuola perché faremo altri video tutorial per la compilazione di altre sezioni arrivederci a tutti grazie 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 grazie